Sono le uniche strutture che consentono un feedback tra la realtà esterna e quella interna e quindi c'è un travaso di competenze e di conoscenze. È l'unico modo per tenere un paziente grave anche in un contesto pubblico e quindi è anche l'unico modo di riabilitare. Punto nodale, la Regione Puglia non intende sovvenzionare. Ha fatto una legge per cui prevedeva degli standard, le strutture si sono adeguate, a distanza di un anno non è stato versato un centesimo, non è stato fatto l'accreditamento. Sono inadempienze gravissime, oltretutto non rispettano i LEA che sono i livelli essenziali di assistenza. Quindi la Regione andrebbe immediatamente commissariata. Io non penso che sia il caso di chiedere, qui c'è solo da incazzarsi perché bisogna far valere i diritti calpestati. Centri di urni chiusi e famiglie in difficoltà, situazione questa che ha causato non pochi problemi agli utenti dei centri e alle loro famiglie che si sono date appuntamente proprio sotto la sede della Regione Puglia, a Lecce, per chiedere il ripristino immediato della situazione precedente. Dopo mesi di mancato supporto terapeutico, diverse famiglie testimoniano malesseri e difficoltà degli utenti. Le famiglie senza queste strutture sono abbandonate? È chiaro, perché le strutture senza budget non possono più permettersi di andare avanti. Probabilmente chiuderanno, se non ci saranno risposte certe da parte della Regione, chiuderanno dal primo maggio. Immagino il disastro. Io mi auguro che tutto questo non succeda, che rinsapiscano. Altrimenti io penso che tutte le forme di lotta siano adeguate. Non vedo perché noi dovremmo continuare a pagare tasse o a votare questi personaggi.